Si chiama SELIS ed è un progetto per lo sviluppo della cultura della prevenzione nei giovani. È stato presentato nel corso di un incontro che si è svolto nell'aulamagna dell'IT Marconi di Campobasso, un progetto che coinvolge il mondo della scuola, dell'impresa e l'INAIL, perché la prevenzione degli incidenti sul lavoro parte dalla scuola e l'IT Marconi vuole lanciare un messaggio importante. Una vera cultura sulla sicurezza ancora non esiste, né tra i giovani e neanche tra gli adulti. Questo per una serie di motivi. In primis perché in Italia siamo abituati a fare le leggi e a non finanziarle. Quindi l'abitudine di parlarci addosso e di dare importanza a una cosa che poi non si reputa nei fatti importante è il nervo scoperto che dà solidità a questo problema così attuale della sicurezza nei luoghi di lavoro. La nostra intenzione è appunto di dare una emotività vera su queste tematiche. L'INAIL è da sempre in prima linea per prevenire gli infortuni sul posto di lavoro. Noi dobbiamo partire dal presupposto che i giovani di oggi, i giovani che abbiamo nella scuola, sono i futuri lavoratori e quindi quella che è una forma di cultura della sicurezza è sicuramente determinante anche ai fini del loro inserimento nel mondo del lavoro. In Molise com'è la situazione per quanto riguarda gli infortuni? Sono in aumento o sono in diminuzione? Quali dati avete? Allora il trend è in leggera diminuzione ma questo sicuramente non ci deve far abbassare la guardia perché innanzitutto dobbiamo considerare anche quello che è una diminuzione dell'attività lavorativa e in ogni caso come dico sempre fino a quando ci sarà un infortunio sul lavoro dobbiamo sempre essere desti e attenti affinché anche un solo infortunio non avvenga più. L'edilizia è sempre al primo posto, poi seguono anche gli infortuni, incidenti stradali sul lavoro e in ogni caso a ruota poi c'è il terziario. Come rispondono le aziende nei confronti di questa problematica? Beh diciamo che ancora la prevenzione intesa come impegno da parte del datore di lavoro alla diffusione di questa cultura in molte aziende viene vista e vissuta ancora come una perdita di tempo. Grazie.